e benvenuti in questo nuovissimo video oggi siamo qua con mario e siamo in questa nuovissima live in questa nuovissima vanilla e ragazzi ho messo una nuova scheda grafica che è una 3612gb per il ciò buon lentissimo e ragazzi allora come ti dice questo bene ragazzi l'abbiamo iniziata questa nuovissima vanilla c'è pure mario ok ragazzi perfetto allora ragazzi abbiamo un po' già iniziato io amore ragazzi vi faccio con l'iscrivito con il suo bello bello quello sono le mancrat qua sono sempre più professionali passo 2 cambiare questa videocamera anche se è male però io ma e allora voglio fare la casa assieme o meno separato ma è meglio assieme per adesso ma non preparati, perchè poi si metterà a cominciare c'è ancora il trucco uno ragazzi avete visto che gradi ha questo skidder ragazzi un altro po' di linea per ascia ragazzi ho scherzato pure Dead Island che va benissimo con tutto ultra e ragazzi se volete volete un like, qualche video ditemi come voi non dite ok Mary ho preso un poco io qua le parole ma arrivo da su l'ora Mary ho fatto la fornace beh ragazzi io vado a trovare un po' di pecore ok ragazzi ci vediamo quando ho trovato le pecore ok Mary adesso tipo taglio Mario si è tornato il figlio eh si però parla un po' se no? cioè sembra che non ci sei che ti vergogna che ti vergogna che ti vergogna ok ma io mi posso fare il lettino bellino ok ragazzi Ok ragazzi, adesso ci vediamo di nuovo dopo, adesso di nuovo taglio magari. Mmmmm. Ok ragazzi Sto tornando a casa Ok Melo sto qui con il racconto Melo per caso c'è un po' di carbone Ah sta già qua Melo ho trovato 3 di manzo crudo E 4 di carnavena cruda Vediamo un po' di dividercelo, va bene? Anzi mi faccio la cosa in piedra Non è solo la cosa in piedra Non è anche un po' di dividercelo Ok, lo toppo Non è solo la cosa in piedra ciao ragazzi bene ma romperare la giappa che metto ho tanti semi poi zappare un po grazie dunque ragazzi il pollice verde non 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 però la carne te l'hai ripresa tutta tu prima ne serve un poco anche a me se no muoio ne dai altre due perché prima che ne erano ne avevo presi quattro a non se non 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 A trego. A trego. A trego. A trego. ora faccio prendere un po' di ferro, eh un po' di altro ah Mario, mi devo fare il letto ok, che sta succedendo? Mario sta dormendo facciamo la parte di... ma non possiamo fare cosa mia qua sotto c'è un po' di altro questo... non è vero vabbè ragazzi noi andiamo un po' con il miniero ok ragazzi siamo tornati qua dalla miniera abbiamo preso un bel po' di ferro mardo quanto ce ne hai? sei bene bene ok allora tutti e due ci facciamo il piccone e... o il piccone e la spada oppure il piccone e la corazza credo quello la a destra è tuo e quello a sinistra è mio si però io stavo guardando ragazzi oh Mario, Mariolo, Mariolo, Mariolo no ma non ti ho rubato la gente tu hai undici di farlo, io ne avevo solo tre è un maguolo tu l'hai margolato due volte no 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 ma questa volta non l'ho rubato eh tu l'hai rubato ma com'è che stai rubato? eh io faccio super veloce faccio le macro allora ragazzi iniziamo a fare qualcosa di bello ok 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 allora ci facciamo un bel picconcino Mario se ti fai il picco nella spada o il picco nella corazza non mi è bastato per fare la corazza perchè ho fatto presto lo scudo però uno se n'hai rubato da me perchè ho uno di ferro per guidare a me ok perchè oggi posso fare lo scudo si grazie ok mi piace mi piace si ma mi piace la miniera come ti ricordi sta là in fondo perciò ho facciato la barca come abbiamo fatto prima oppure dobbiamo camminare un bel po' vabbè ragazzi allora io taglio un attimo ci vediamo dopo ok ragazzi stiamo tornando un attimo oh ma è caduta l'acqua aspetta uh mare aspetta mare forse continua ragazzi forse ci abbiamo proprio la miniera non è facile no ti servirebbe una porta me ne puoi dare uno me ne puoi dare uno beh lo vado a frottare ma come la chiamiamo questa vanilla ma l'abbiamo già chiamata tante volte così oh ragazzi continuano come se continua mare continua un sacco un sacco sono mesi con le va fino a una caverna grande vieni mare che è tanto con le porte dove sta sto proseguendo per la via la la via dove sta è per questa l'acqua c'è del ferro anche se ragazzi andrea 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 non fa niente prosegui per la tante sta nella caverna anche se dobbiamo diventare dei sommozzatori ma lo puoi venire ma lo proseguo un sacco ma lo puoi venire no ragazzi forse non prosegue provo a rompere sotto di solita sempre prosegue ok no e a a a a a a a Oh Mario, ho trovato un'altra caverna, questa qua si può respirare. Mi servirebbero, vabbè mi faccio un attimo delle torche, tanto con l'op di fine, possiamo sempre vedere. Ok ragazzi, la caverna proseguire, sto spiegando un po' a male perchè devo fare una cosa. Ok ragazzi, l'ho messo un bel po' perchè è una bella lunga, poi dovuto pure scavare un po', ok. Allora. Sì ma adesso devo mettere la live, cioè il video. No, poi ragazzi siamo tornati, magari c'è una cosa da fare, è appena arrivato. Ok. Aiuto. Ma ero tutti i rame, eh? Ma ragazzi è possibile che lo schermo si sta ranneggiando. Ma ragazzi che è successo, si è bloccato lo schermo. Anzi non mi resiste ancora l'ediofranco, ok tutto a posto. No, cosa succede? Ok. Ma non ho ancora attaccato nessun moto, solo perchè li ho attaccati io. No! Si aspetta! Pfff! Pfff! Marino! Vabbè mi avrei aperto di cercare di minare un minare tai. Pfff! Parti lì. Rirap! Sì! C'era un esco lì Mario c'è del ferro, prendilo un attimo No Mario è finita la caverna Ah Mario è qua continua, vieni Ci sei? Ah ecco L'acqua è Dic Ok, lo prendo e lo cerro pure per il verde No Mario c'è un creeper No ragazzi Ragazzi adesso devo tornare Vabbè ragazzi ci vediamo quando sono tornato Ok ragazzi Siamo Devono essere arrivati Nonca poco Oh ma l'ho trovato la selce per l'accendino dopo del portale Ok ragazzi Ok ragazzi Siamo arrivati in una mancia Ragazzi in un tragetto ho trovato uno di questi Ho trovato una mela d'oro e delle torce Ho trovato una mela d'oro Ok Ho trovato una mela d'oro Allora Guarda qui Mi afferro Ok Mario proseguiamo Ok ragazzi Non ho trovato una mela d'oro Vabbè 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 È del ferro? Anche se non ci serve Mario diamanti diamanti L'ho trovato io Allora 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 Oh ragazzi di noi Poi Dobbiamo tornare Mario Devo di nuovo tornare Un po' Vabbè Ragazzi Ci vediamo quando arrivo Aspetta Ok ragazzi Dopo tre ore Saranno passate Almeno L'abbiamo messo le torte Qua L'acqua Qua C'è la lava Beh Per dopo L'ossidio No? Un Mario Un proper C'è una stripper Mario C'è una stripper Mario C'è una stripper Mario C'è una stripper Oh Mario C'è una super caverna Un po' Dicono Un progetto Ho sbagliato Una stripper S'è una stripper Una stripper S'è una stripper Dicono 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 Un progetto Una stripper vabbè ragazzi il video sta durando un bel po a 2 hanno arrivato adi io sto addorna ahhh di nuovo sono morto ragazzi tre ore che vogliamo tornare a staterna facciamo un po' su quelle che noi ho sempre adesso ho giù due speedy per me non ho imparato a memoria e poi ragazzi di nuovo dobbiamo fare il taglio